Musica Abbiamo acquistato una crociera con un'offerta che comprendeva il volo di andata e ritorno. Nel volo di andata ci hanno perso le valigie che ci sono state restituite soltanto a casa al nostro ritorno. La crociera è stata rovinata, la compagnia croceristica si rifiuta di pagarci i danni perché dice che dobbiamo rivolgerci al gestore aereo. Se si acquista un pacchetto volo più crociera, questo è un pacchetto completo per cui il consumatore ha diritto al risarcimento direttamente da parte della compagnia croceristica. Sarà poi la compagnia croceristica che ne risponde direttamente ed immediatamente nei confronti del consumatore a rivalersi eventualmente con la compagnia aerea che ha effettivamente causato il disagio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!